Pogba mi è deluso, voglio iniziare così questo video. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui nel canale YouTube. Io sono G29 e oggi ragazzi siamo qui, tornati in un nuovo video, in un nuovo video per parlare della nostra Juventus. Nel primo video non sarà l'ultimo perché ovviamente ai prossimi giorni ne troverete altri di questo genere per parlare della situazione Pol Pogba. Cosa andremo a fare in questo video? Vi andrò un attimo a ricapitolare, a dirvi, a spiegarvi la situazione Pogba che ormai conoscete tutti e a dirvi un attimo la mia opinione. Prima di iniziare però ragazzi mi raccomando, sostenete tutti quanti il canale. Come potete fare per sostenere il mio canale? È semplice, lasciate a tutti quanti un mi piace, le dimenticine di like sotto questo video, iscrivendovi che dobbiamo arrivare ai 200 iscritti il prima possibile e commentando qui sotto, scrivetemi tutto quello che volete, scrivetemi una vostra opinione su Pol Pogba, secondo voi la storia con Pol Pogba doveva finire meglio, cosa fareste voi in questa situazione, scrivete tutto quello che volete nei commenti. Detto questo, partiamo. Allora, l'altro giorno, questo è il primo video, io è la prima volta che affronto questo argomento sui social, l'altro giorno è arrivata la notizia della positività di Pol Pogba al testosterone che è il risultato positivo dopo aver effettuato il test anti-doping dopo la partita contro l'Udinese lo scorso 20 agosto, quindi la prima partita del campionato Udinese-Juventus, alla fine di ogni partita due giocatori a scelta vanno mandati a fare il test anti-doping, quella volta contro l'Udinese, dopo la partita contro l'Udinese è stato scelto Pol Pogba, Pol Pogba è risultato positivo, ok? Bene, Pol Pogba è risultato positivo. Qui si iniziano a fare tutte le ipotesi, tutti i giornalisti, i giornali iniziano a scrivere ipotesi, ovvero squalifica dai tre mesi ai quattro anni, perché parliamoci chiaramente, c'è gente che scrive Pol Pogba verrà squalificato, no, non si sa nulla per il momento. L'unica cosa certa che sappiamo è che Pol Pogba, se la positività al testosterone, al doping, dovesse essere confermata, rischia dai tre mesi ai quattro anni di squalifica dal terreno di gioco. Questa è l'unica cosa certa, tutti i giornalisti iniziano a fare ipotesi e tutto, e poi viene fuori ovviamente la notizia che, comunque, Pol Pogba da quando gli è arrivata la notizia della positività, diciamo a 72 ore per poter richiedere le controanalisi, cosa sono le controanalisi? Pol Pogba, adesso ha richiesto le controanalisi, Pol Pogba facendo le controanalisi, rifà il test antidoping, se dovesse risultare ancora positivo, allora viene attuato il piano di sospensione, viene attuato il piano di squalifica, entrano in campo i giudici, entra in campo il tribunale, entrano in campo le sanzioni per il calciatore, non per la Iventus ma per il calciatore, perché, occhio, si sta parlando solo ed esclusivamente di Pol Pogba, quindi ogni sanzione sarebbe data soltanto a Pol Pogba, la Iventus non c'entra niente, se in questi giorni sentite parlare di un possibile patteggiamento, a patteggiare sarebbe Pol Pogba, non sarebbe la Iventus, perché la Iventus in questo discorso non c'entra nulla. Dopo comunque sia questa notizia e tutto, è uscito il comunicato ufficiale della Iventus, del club bianconero, dove si capiscono un po' di cose, cioè in realtà non si capiscono cose, scusate ho sbagliato termine, perché comunque sia un comunicato corto, poche righe, in cui si dice poco, nulla, e quindi dopo questo comunicato, i tifosi e tutto non capiscono granché. Poi ieri mattina, pomeriggio, arrivò la notizia che Pogba non aveva ancora richiesto le controanalisi, che le ore stringevano e tutto, poi ieri sera è arrivata la notizia del grande Nicola Balice, stamattina questa notizia è stata confermata da Mirko di Natale, ovvero Pogba ha richiesto le controanalisi, ufficialmente le farà in queste ore, in queste ore farà le controanalisi, per capire se risulterà ancora positivo. E poi se dovesse risultare ancora positivo, ragazzi, ci saranno i provvedimenti adeguati per il calciatore sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto di squalifica, e poi sotto l'aspetto della Juventus, perché la Juventus, quando è venuta a conoscenza di questa situazione e tutto, che si dice che sia stato lo stesso Pogba, ad aver ammesso la società bianconera, aggiunto gli Amanna, Allegri di, diciamo, di essere stato positivo al test anti-doping, di aver assunto delle sostanze, si parla, un giornale parla di una crema, una pomata, un altro giornale parla degli integratori, un altro giornale ancora, che sembra però la notizia più veritiera, parla che un suo amico dottore americano, durante la tournée della Juve, gli ha consigliato di utilizzare, un farmaco che poi contiene testosterone, tutto un casino ragazzi, non si sa ancora il motivo, questo sapremo soltanto, tra qualche giorno quando arriverà il risultato delle controanalisi, quindi, io sono qui per dirvi cosa, sono qui per dirvi le sanzioni che, metterebbe in atto la Juventus, in tal caso, che venisse confermata la possibilità al test anti-doping di Pogba, la cosa numero uno, la Juventus l'ha già fatta, ovvero la Juventus ha sospeso e ha tagliato lo stipendio di Paul Pogba, perché adesso Pogba invece che per cipiere 10 milioni all'anno, prende pochissimo, poi adesso non so bene la cifra, però lo stipendio di Pogba è stato tagliato, perché giustamente lui, finché non arriverà il risultato del controanalisi, lui non si può allenare, lui non può giocare, quindi giustamente la Juventus gli ha sospeso lo stipendio, scelta più corretta di così, non ci poteva essere, poi se in caso dovesse venire confermata tutta questa notizia, quindi la posizia al test osterone, la Juventus mi fa male il cuore, mi piange il cuore a dirvelo, la Juventus è pronta a rescindere il contratto a Paul Pogba, io ieri vi ho scritto su Twitter che l'addio, l'avventura 2.0 di Paul Pogba alla Juventus è praticamente finita, vi confermo questa cosa, vi confermo questa notizia, ve la do, ve la confermo, Pogba è un passo dalla rescissione contrattuale, poi è ovvio che bisogna aspettare i risultati delle controanalisi, perché poi magari le controanalisi dicono che non è più positiva, allora la Juventus potrebbe decidere di reintegrarlo in gruppo, magari con un adeguamento di stipendio, se no si andrà per la rescissione, Paul Pogba dovrà star fermo, non prenderà un soldo, e sarà svincolato, questa è la decisione che la Juventus, che la dirigenza bianconera, ha preso sul futuro del cioterapista francese, adesso passiamo alle opinioni, io vi dico onestamente come vi ho detto ieri su Instagram e su Twitter, che sono deluso da Paul, perché comunque sia, anche se avesse assunto il farmaco che gli ha consigliato il suo amico americano, comunque sia sulla scatola del farmaco c'è scritto cosa contiene, c'è scritto che potrebbe contenere testosterone e tutte quelle cose lì, e poi Pogba, non penso sia così stupido da andare ad assumere delle sostanze del genere, potrebbe essere stato un errore del sistema antidoping, non penso, perché comunque sia, sono cose delicate, sono strumenti delicati, fatti apposta che raramente sbagliano, perché non vengono utilizzati soltanto con i calciatori, ma vengono utilizzati con le sportive, con le persone in generale, quindi un dispositivo medico, elettronico, è veramente difficile che comunque sia sbagli, quindi non dico, escluderei l'opzione che abbia sbagliato, il test, che il test sia sbagliato, però per me è veramente molto molto complicata la cosa, sono veramente delusual, per me si meritava un ritorno diverso, poi è ovvio che questo ritorno, cioè diciamo che non è stata colpa dell'Aventus, perché comunque si ha, Pogba ha avuto i suoi problemi fisici, Pogba è stato fermo un anno, Pogba ha giocato 50 minuti, fa 10 minuti a partita, poi fa due partite dove entra, gioca 20 minuti, si fa di nuovo male, sta fermo due mesi, poi torna, si fa di nuovo male, poi viene positivo al test anti-doping, quindi capiamo che se dovesse attuare la recessione contrattuale, è una cosa che si può capire, io ovviamente sono deluso da Paul, mi aspettavo un ritorno migliore, però ormai è chiaro che Pogba da ormai 3-4 anni è un ex calciatore, si è già visto a Manchester, è stato confermato a Torino, Pogba ormai è un ex calciatore, adesso aspettiamo la notizia ufficiale, aspettiamo nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale sulle controanalisi, e dobbiamo soltanto aspettare, perché la verità e tutto ce la dirà soltanto il tempo, detto questo ragazzi, questa era la situazione, il mio pensiero, la situazione Pogba, io vi ricordo, vi invito a lasciare tutti quanti mi piace questo video, arriviamo qui in un'inici like, iscrivetevi tutti quanti che dobbiamo arrivare ai 200 iscritti prima possibile, commentate, seguitemi anche sugli altri social, Instagram e Twitter dove vi scrivo notizie di calciomercato o notizie più in generale sulla Juventus, e non solo, detto questo ragazzi, io vi saluto, un saluto dal vostro 599, noi ci vediamo domani barra dopo domani, un saluto, bella raga.